Anticipazioni un posto al sole, trama puntate da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2016. Serena coinvolge la famiglia nella sua felicità, Franco nasconde nunzio dalla polizia. Lunedì 19 dicembre 2016. Potrebbe essere ormai agli sgoccioli la battaglia tra Mariella e Guido, i quali dovranno trovare un punto d'accordo per quel che riguarda la casa di Donna Lucia, nella quale hanno deciso di vivere per lasciare l'appartamento di Posiglipo a Vittorio. Intanto Nunzio prende una decisione e capisce di aver bisogno di aiuto, mentre Franco ed Angela appaiono sempre più lontani. La donna infatti non riesce più a tollerare il comportamento del compagno, in merito ai problemi causati dal giovane. Nel frattempo Beatrice continua a mettere a dura prova Nico e Susanna. Martedì 20 dicembre 2016. Serena è sempre più felice, non solo perché ha ritrovato il padre che ha tanto cercato in questi anni, ma anche perché sente che finalmente la sua famiglia potrebbe essere di nuovo unita. Dopo l'uscita del servizio fotografico infatti, la moglie di Filippo decide di organizzare un pranzo di Natale in famiglia. Intanto Giovanna è vicina a scoprire la verità, mentre Franco continua a nascondere Nunzio contro la volontà di Angela. Cosa accadrà? Mercoledì 21 dicembre 2016. Sembra che ormai non ci sia più niente da fare per Nunzio. Il ragazzo, nonostante la protezione di Franco, potrebbe essere scoperto dalla polizia mentre Angela continua a suggerire al compagno di non proseguire con questa storia e gli consiglia di parlare con Giovanna. Intanto Marina e Matteo sembrano essere pronti a ritrovare un po' di serenità, ma la situazione potrebbe precipitare nuovamente a causa del passato del Serra, che emergerà improvvisamente. Giovedì 22 dicembre 2016. Renato viene consigliato da Raffaele e da Ornella a tenere un atteggiamento diverso nei confronti di Nadia, ma i consigli dei due amici non sono proprio uguali. Infatti le parole di Raffaele avranno un effetto un po' diverso per il Poggi. Intanto Franco continua a coprire ed a proteggere Nunzio, pur sapendo quanto gli potrebbe costare questa decisione. Eppure ignorando i consigli di Angela, che è sempre più disperata, vorrebbe salvare il salvabile. Venerdì 23 dicembre 2016. Giovanna è sempre più vicina a ritrovare Nunzio. Infatti, grazie ai suggerimenti di Angela, la poliziotta trova il luogo in cui si nasconde i ragazzi. Intanto sta per uscire il romanzo pubblicato da Michele e una discussione che oscheggia lo fa riflettere in merito al suo atteggiamento e dalle sue responsabilità nei confronti del pubblico. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.